Siamo vivendo una situazione sanitaria drammatica. Molti lutti colpiscono le nostre comunità, perdite derivanti sia dal Covid-19 che da altre patologie, le quali non scompaiono di fronte al coronavirus, ma diventano più aggressive e pericolose. In questa situazione sanitaria drammatica, in cui i tamponi arrivano con 15-20 giorni di ritardo, in cui non vengono fatti a tutti i probabili contagiati, dobbiamo condividere dei provvedimenti sanitari che possono andare fuori dall'ambito della normale offerta sanitaria. È necessario tenere distinti i percorsi Covid dai percorsi non Covid. Bisogna avere le risposte dei positivi entro 24 ore, anche a tutti i familiari e a tutto il personale sanitario che lotta stoicamente contro questo virus, rimettendoci anche la loro vita. Mai, come in questo momento, è necessario fare squadra per assicurare da un lato, strutture attrezzate per affrontare la pandemia e dall'altro, nell'ottica emergenziale e quindi delle temporaneità, offrire servizi sanitari in sicurezza e funzionali. Nessuno, e dico proprio nessuno, in questo momento può pensare di salvarsi da solo, né tantomeno di essere veramente utile dagli altri, se non mettendo in comune a disposizione di tutti le risorse e le competenze. Al termine di questo dramma abbiamo l'obbligo di riconsiderare la funzione dei presidi ospedalieri nell'ottica dell'emergenza urgenza e delle vocazioni territoriali in ragione della loro efficienza.